E anche oggi abbiamo fatto tardi, mannaggia, mannaggia, mannaggia al mixtape, è pieno di avere dei mixtape, schiocca le dita baby, schioccale, per il funky press baby, yeah Quanto costa una pizza in pizzeria, una cena per due in un ristorante romantico, quanto costa una sosta in infermeria, quanto costa volare via, quanto costa una crociera in transatlantico, quanto costa una vacanza in campeggio a cesenatico Quanto costa un bungalow, quanto un bunga bunga, quanto costa un paio di sneakers in un outlet, quanto costa uno smartphone, quanto costa un tablet, quanto costa l'affitto di casa, quanto costa un concerto di Renzo Arbore Quanto costa un giro a dischi, quanto costa un giro a rosto, quanto costa una birra in quel posto, e come mai costa il doppio nel posto accanto, e come mai costano la metà calda e al supermarket Quanto costano le poste, quanto costano le banche, quanto costa un giorno a Milano, e quanto una ad Amstel, quanto costa la nuova auto, e quanto affittare un tandem, quanto costa la sosta dietro al parcheggio, quanto costa l'expo, quanto hai pagato di taxi, hai dato come mancia il resto Quanto la paghi al grammo, quanto la paghi al letto, quanto costa mantenersi un tetto, quanto costa la metro, quanto costa il biglietto del treno, quanto costa un pezzetto di cielo, quanto costa un caffè, quanto costa per te mettere in piedi un demo Quanto costa portare un artista a Sanremo, quanto è costato Star Wars, e quanto è costato un episodio dei chips, ultima domanda frate, quanto costa un beat E questo sì che è una domanda Tu muori il culo Che se zera il sangue va al cervello, vai Oh, yeah Su Fuckpress Production Big up my man Jazzy Mellow Mixtake Baby What? Mani super, tiennetta verde baby